Salve a tutti, Elsinore Drotningu è al vostro servizio. Sono qui oggi in questo video per dirvi non una, non tre, non quattro, non cinque, non sei, ma due notizie. Aga, 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 sto parlando... Che cosa vuol dire Elsinore Drotningu? Il mio nome, bene, Elsinore, l'antica città di Copenhagen. No, niente intro, non è niente. Se qualcuno ha studiato qualcosa saprà che il nome è utilizzato per indicare Copenhagen in amleto. Oidrotningu, drotningu. Nella traduzione sbagliata dall'antica lingua creata da Christopher Paolini nel suo ciclo dell'eredità composto da Eragon, Eldest, Brisingr e Ineritans. Drotningu vuol dire principe o principessa nella traduzione sbagliata, come ho già detto. Io lo traducerei però normalmente come figlia del re o figlia della regina, così, non principe o principessa. E drotningu vuol dire principessa, vuol dire re o regina. Io non trovando molto bello re, oppure semplicemente Elsinore Drotningu, mi sembrava un po' incompleto, perciò ho deciso di fare drotningu. Ed è venuto fuori il meraviglioso principe dei boschi della Dwelldenbarden. Bellissimo, tra l'altro. Sono bello, vero? Sono bello? Poi la seconda cosa è la presentazione di un libro, come avrete capito dal titolo. Ma non un libro, libro libro, libro, del genere Brisingro via di lì. Ma libri che trattano di personaggi storici. Questa è un'antologia illustrata del suo Giacomo Leopardi. Sì, volevo vedere come era il mio zoom, ma sarà cagaticcio come quello di altri youtuber. Va bene? Allora, e di che cosa parla questo bel libro? Per l'appunto, come avrete capito, parla di Leopardi. Lo tratta in una maniera molto significativa, da consigliare assolutamente a quelli che sono di fine terza, perché studieranno Leopardi, o quelli che sono di fine terza e vanno al classico, o quelli che sono già al classico, perché devo dire che questa antologia vi aiuterà come non mai. e me l'hanno regalata per Natale. Me lo sono letta tutto in un fiato il giorno di Santo Stefano. È meravigliosa e io ve la consiglio dal più profondo del cuore. Tra l'altro, nella prima pagina possiamo notare una foto bellissima della biblioteca di Leopardi. Leopardi. Beh, notate? Fantastica. C'è libri accademici. Richard. Molto bello, una foto vera. E poi vorrei leggervi anche la dedica che mi hanno fatto per il Natale. Non c'entra niente, però non mi frega. Allora, Natale 2014. Quando sarai grande? Per non dimenticarti quando eri un piccolo Leopardi. Mamma e papà. Sì, sono sentimentali. Anche io l'ho preso da loro. Bene, allora. Tutto inizia con un'introduzione che io non ho mai letto, perché io detesto le introduzioni. Non servono assolutamente a niente. Perciò manco a parlarvene. Il libro non incomincia con le poesie o altro, bensì con la biografia. Inoltre, ci sono titoli molto espressivi, come questo. L'esito del viaggio è un mafraggio che, nell'infinito, è dolce. Una parafrasi solo per questo. La morte è un mafraggio che, nell'infinito, è descritto bello. 12. Come sempre Leopardi. L'oddio, da tanto che non leggevo di Leopardi, mi sono dimenticato della sua tristezza. Biografia, Pietro Giordani, Aspasia, Poi le testimonianze e i ricordi. Per esempio, testimonianze da parte del fratello Carlo, del padre Monaldo, della sorella Paolina, di Ranieri, del grande amico Ranieri. E così ci sono tante di quelle citazioni da parte di padri, parenti e amici che non se ne finisce più. E, appena finita, finalmente troviamo le poesie di Sir Leopardi, i canti. Non ci sono naturalmente tutti, perché se no questo era un po' più grandetto. Troviamo all'Italia la prima poesia che si ritrova nei canti. non potevano non metterla. L'infinito, naturalmente, un po' fatto dopo all'Italia, però. La sera del Dì di festa, alla luna, a Silvia, rimembra ancora, canto notturno, dopo la tempesta, villaggio e tutto il resto. Dopodiché abbiamo le operette morali, che iniziano con il dialogo della moda e della morte. E' pazzesco l'ingegno che aveva Leopardi. C'è dialoghi, dialoghi tra creature che sembrano non aver niente a che fare, sentimenti, esseri fondamentali, come vogliamo chiamarli, la moda e la morte. L'una sta qui, l'altra sta qui. E lui è riuscito a farli incontrare così. Sono esterrefatto, meravigliato. E qual è la somiglianza? La somiglianza è che la moda non può vivere se un'altra moda prima di lei muore, quindi è dipendente della sorella morte, ed entrambi sono figlie delle cose destinate a cadere. Voleva dire della caducità che voi, ignoranti, non avreste capito. Il dialogo di un folletto e di un gnomo. La mia preferita dialogo di Tasso e del suo genio familiare. Fantastica. Assurdo. Ah, questa che mi piace anche molto, però non più del Tasso e del genio. Il dialogo della natura e di un islandese, anche se vanno a pari passo, come in... Sì, diciamo. L'islandese. È fantastica quando parla la natura, l'islandese. Oh, questa divertente. Il dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. Dopodiché, che cosa troviamo? L'opera che sembra più contorta, più misteriosa, più senza un filo conduttore, che però ce l'ha, che nessuno conosce, se nemmeno la sorella Paolina, lo zibaldone di pensieri, detto solo lo zibaldone. Dunque, sì, sì, d'accordo. I pensieri, pensieri, cose che lui pensava, a discorsi, lettere, lettere. Mi è piaciuto molto questo passo, le lettere che spediva Leopardi, che so, al padre per chiedergli denaro, che so questa. Dalla lettera a Monaldo del 27 maggio 1837, la sua morte vicina a due giorni, oddio, da Napoli. I progetti. Cioè, ora vi faccio una citazione di Leopardi. In questa testa c'è tanti progetti iniziati, talmente di quelli che non basterebbero sette vite umane per completarli. E aveva ragione, è come me. Come me. Dopo i progetti, che cosa abbiamo? Con i progetti si inizia tutto. Storie satiriche. Bene ragazzi, spero che questo video, un po' cortino, anche se lo desidero non riesco a fare video corti, vi sia piaciuto. Io vi invito sempre ad iscrivervi qua, nella nostra cara e bella scatolina, due euro, niente di più, amici. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Grazie.